Volevo chiedere cosa bisognerà fare per ripetere una partita come quella della stagione scorsa e cosa ha questa Fiorentina in più o in meno rispetto a quella squadra? Intanto per ripetere quelle cose di importante bisogna avere fiducia, avere sacrificio, avere convinzione ma al tempo stesso un'istà, quindi non possiamo permetterci di non giocare al 101% contro l'Universario di questo livello e in qualche modo bisogna anche ripetere una partita, non far fede su quella mattina che farò una piazza di tante 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 tante.